per 11 anni perché resistiamo quando abbiamo deciso di fare una cosa insieme e Flacco ho dato i nostri pessimi caratteri avevamo pronosticato che duravamo due mesi invece compiuto 12 sono 12 siamo un pochetto insieme e questo è l'incontro di due emigranti di lusso cioè di due persone che hanno lasciato i paesi d'origine, l'Argentina per lui e la Sicilia per me per andare a lavorare di lusso perché non siamo operai non siamo minatori, non siamo musicisti ma sempre emigranti siamo e questo repertorio che abbiamo messo insieme come vedete io sono ospite perché suoniamo musica argentina e non ci citiamo due giorni mi girano le palle e me ne vado subito però è una nostalgia di quello che si è lasciato cioè di un posto che era in un certo modo e che adesso non è più così e non siamo mai più così grazie a tutti 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 grazie a tutti